Buonasera, ci siamo o no? Eh ma ancora c'è da lavorare ragazzi, anche perché tutto quello che vedete qui, tipo tutte le pop in realtà sono da modificare Le scarpe che si vedono qui sullo sfondo, devo cambiarle Devo cambiare le statue dentro la bacheca, ci devono mettere il led, qui c'è va il televisore Ma regà, ma io sbaglio o devo correre ad aprire i pacchi? Allora, ragazzi, 600.000 pacchi, sì Dentro si può trovare di tutto, e noi non troveremo proprio niente Giocatore tuono 30%, giocatore icono a tuono 3.4% Apriamo prima un po' di lighting rounds Ma chi è? Ma regà, cioè però ragazzi, ma quanto cazzo è bello sto design Cioè sto gioco si salva sempre grazie a una persona sola che è il grafico Cioè ste carte sono talmente tanto belle che io ho dovuto shoppare così tanto, sì Cioè è troppo be... Lo sotto significa che è meglio Capiamo? Oh, 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 attenzione La caga però costa 10-20.000 crediti, tipo regà L'importante è, lo sapete, io vorrei trovare un'icona Dai troviamo st'icona su, dai forza regà Io non trovo un'icona da 60 anni Dai dimmi che è icon È icon, regà È icona, oh Ragazzi E quest'oggi Porco Dio Porco come fa costa così tanto Regà si inizia di Cristo Già toglie il video di YouTube Ma che cazzo è? Oh Dai questo è carino, dai Oh, questo però è un bel evento Permettetemi di dirlo Questo è un bel evento, dai Ok, ah regà Mi sa che dopo figo ha scaricato Regà non c'è da più un cazzo Non c'è posta Andiamo piano piano Vediamo le animazioni Oh, Bianca, dai Un altro Bernardo Silva Regà, posso dire Almeno Bernardo Silva è coerente Esce letteralmente in ogni pacco Sempre Però esce anche oggi Che è nella promo Proviamo un paro dei Un paro dei non scambiabili, dai Eh sì, dacci icon No Italia ATT Juventus Ok, quindi è doppio walkout E dietro Chi è uno bello? Ma che è centurione? Che è? No, sto sbagliando Che cazzo evento è? Ah no, è un altro Lukaku Porco Dio Ma è un'altra volta Lukaku È che ci stanno sette eventi Dentro i pacchi Ci sto a capire il cazzo Allora, apro No, senti A tappiando il culo Porca madonna Ragazzi Che vita di merda Vabbè, però in realtà Due icone No, non me la mento Non me la mento È già andata bene Fidate Cioè, è già andata di Cristo Anzi, lo sai che te dico? Non sa, aspetta Si apre questo Arvolo No, coi crediti Che sei matto Arvolo Dai Nif Ammazza Che pacco de merda Porco Giuda Che schifo ragazzi Madonna Sam Ma quanti pacchi c'ho? Allora, dai Forza, su Dai, dammi l'ultima Ok, dammi Icona Dai Oh, no Non è Icona Peccato No, ma basta Basta Porco Dio Ma quanti Lukaku devo trovare Ragazzi Ma è già il quarto Lukaku Sì Che faccio? Chiudo con questi? O vado de non scambiabili? Qui ci sarebbe un po' più de percentuale Sempre brutta, eh Mi sa che vado un po' de untradable Che intanto me servono Famo sette untradable Dai Che tanto me servono Pe Pe le sfide in caso Questo è If Doppio walkout con Tony Cross Chi è che c'è sta If de Bono? In realtà una cifra di roba Considerando che c'è il best of team of the week Dammi Van Dyke Oh, carina Lei la volevo provare Lei la volevo provare Per l'esotica sta settimana La sorella di James Oh, hero Eh, mi sa che è Travis Scott No, non è Travis Scott Scusate Questo è Bronze E dietro c'è Ginola Oh Ma chi è? Francescoli Ma vaffanculo È McCannaman Ma vatta Piander culo Allora Senti Porco Dio Ma che è sto contenuto, regà? Questo è un contenuto incredibile Lo facciamo subito? Quest'oggi veramente penso di fare Bo Overdose dei pacchi Probabilmente, eh Oh Oddio La Tiani? Porco Dio Mi masturbo Oppì, ragazzi Nel 2,85 più Quanto è che costa? Questa può arrivare a 92 Che sculata Non scambiabile Con tutte le sculate di oggi Forse se potremmo comprare un ardigno Sapete? Oppure lo troviamo Ma l'icona, regà Ma posso dire La verità Quell'icona Mammo A me non me ne frega un cazzo De scartare l'87 Te devo dire la verità A me non me ne sbatto Veramente una sega Io voglio aprire sti cosi Fammi capire Yeah Brodri Che cazzo di carta è Quell'altra Ah, Warp Rose Mmm Mmm Bello Questo voglio provare Assolutamente Questo secondo me è un fenomeno Questo qua inizio il gioco Era un mostro a centrocampo Regà Abbonucci Levate va Arrivo io Bello Bellissimo Bellissimo Bruno Ah, ma non costa più una ciola Però ragazzi Ma il Manchester United In Champions League Come sta messo? Sotto un treno E' ultimo Eh, te credi che costa 100k Quello Ma sto Madonna Sto scartando veramente Ho scartato l'Icon a gratis Regà Nel frattempo Io per dire E ho aperto solo tre pacchi Cioè Quello è il discorso Ho aperto letteralmente Solo tre pacchi Di questi Questo comunque è veramente Un evento gestito così Veramente Endgame Di Okane Dai Icon Su Porca puttana Non ho Icon Kobel Basta che non è Lukaku Ah, ma sei un centurione No, è un centurione E che cazzo c'è Come centurione Porco Dio la pop Non la posso Fa volare 90 rated Sì L'evento è una grande bomba Sladano Veramente bello Però sembra davvero Un evento Da endgame Di Okane Però te dica La verità A sto punto Ti facessero sempre così Gli eventi Ma che cazzo Me ne frega Vabbè senti A primo primare Il tuone lì C'era Vabbè L'Iro è garantito No Lukaku Ragazzi Sano Come sono questi pacchetti potenti Esce qualcosa di buono Oppure niente Perché io non ho trovato Minimamente niente Porco Dio Lukaku Gomez Dentro sto pacco Ragazzi Vediamo l'icona Oh Richard Ma lo sai che è molto buono Veramente Veramente Molto buono Regà A me non ho Tre cazzi Pacchi non scambiabili Cioè A primo Sti 15 125 E basta Cioè Sono troppi pacchi Sì Ma ai toti Cioè Come funziona La situazione Qui Mamma mia Ai toti Cioè Massacrano Dei pacchi Regà Porco Dio Ma stiamo scherzando Ai toti Forse quest'anno Ne trovo Un al day one Vediamo il lato positivo Regà Impossibile Non trovarne Un al day one Quest'anno Vabbè Un attimo Ho flashato un buffet Devo dita la verità La mia tredicesima Va via ai totis Eccoci Che ragazzo è Alaba if Questa pure è da provare Secondo me Nell'esotica Icona Oh Zitti No Paolo 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 Ragazzi Paolo Scolastico Porco Dio Ragazzi Paolo Fucking Scolastico Quanto costa Ma che Che schifo Niente Scolz è proprio Semplicemente Indivizzabile Paolo Scolastico Nartricon No Porco Dio Mi sono cagato addosso E non vi abbonate Ad un canale Qualsiasi Dammi nei marre Lo stesso Dai Un altro Bernardo Sirva Vabbè Non se lamentiamo Mazza oggi Però Posso dire Oggi ho speso tanto Oggi ho speso tanto Perché 150.000 FIFA points Sono tanti Però c'è pure Da di che Almeno oggi Ho trovato qualcosa Porco Dio Oggi si è trovato Effettivamente qualcosa Per me Che faccio contenuto Cioè Cazzo Ci sta Esce un video Della madonna Con tutta la roba Che abbiamo trovato Oggi ragazzi Porco 2 Ma che scherzo Stiamo scherzando Perfetto Oh no Icona Dai Dai un'altra Icon Dammi il Brasile Porco Dio Esci fuori Con quel Bercodino Oh che si è Vabbè Oh ma quante cazzo Di Icon Sto a trovare Riga ma che cazzo Ah riga Tranquilli Il drop rate È casuale Non hanno aperto I rubinetti A manetta No A me no Eh solo te Ragazzi Solo te Porco Dio Messo 1500 euro Ma io spero Che voi Non abbiate Messo 1500 euro Mi auguro La situazione Com'è gestita Noi adesso Con tutti i soldi Che abbiamo trovato oggi Di questo meraviglioso Pack opening Che cosa facciamo Le andiamo subito A buttare in un'icona Che domani Starà a 2 milioni di meno Un altro pacchetto Tuono elite Basta pop E lui lo gradisco De Bruin De Bruin De Bruin Devo dire Che lo gradisco Devo ditte la verità Ecco Mascherano Liro Porca puttanaccia Troia ragazzi Anche lui Costicchia ancora Un pochino Di denari Ammazza Culo Metto subito 5 piotte Porco dio Non ti azzardate Tagli le mani Ti taglio Ti vengo a tagliare i dita Un pochino